c'è un attimo perchè devo avviare tutto il gioco praticamente oh non vedo la sua ok ho mostrato me l'ha fatto l'aggionamento si quando entri in quando ti avvii club duty ti fa in basso sinistro download vabbè ma guardo sì ma ero dono da playlist ma non c'è tipo da advanced dwarfs infatti potrei leggere l'aggionamento interno vita è verata vita vabbè ho fatto lo che fa gi non ci sei eh non ci sei con noi invita invita tu a me cerchi a distruirci noi non mi cambia vabbè 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 non non Grazie a tutti Ok Però c'è il tizio in solo motion tutto a piso lì Eh dai Allo Damn that match Adio Grazie a tutti Team deathmatch You have your outboard soldiers Go 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 We've taken control We're losing the fight We're winning this Bag him Expired I would if I could Calm places OPEC Move up And then Uh Oh Okay Isla a tecploit beacon active Eyes on Sarah Seraf, KIA KIA Oh All right, put out one of the assaults. Yeah, I don't need this. Okay, go down. Assault pack right here. Stevi, stevi. They're gone. Hostile attack deploy beacon online. Enemy attack deploy beacon destroyed. We lost the advantage. We lost the advantage. We're taking control. Siamo dietro. Siamo dietro. Questo è sempre la base dell'online. Sto ragazzo. Siamo dietro. Chacere. Assault back right here. va bene io puoi prendere l'iricarico davanti Molto al lavoro guarda ci Idiota perché mi sono suicidato Iscriviti You know what to do. Hostile UAV circling. That's a kill. Mission failed. Survivors to designated exfil zones. Choke the clay. All cast. Kill. Nice. Bagged him. Just.